agrid tutta cosa tu sei un mago eri tu sei un agrid eri tu sei un diagonale andrà alla miglior scuola di magia e stregoneria del mondo è e o è sarà sotto il miglior preside che Hogwarts ha mai visto rubeus agrid non intendo pagare mai insultare rubeus agrid davanti a me qui troverai le penne d'oca e l'inchiostro d'oca e di tutte le confusaglie d'oca state facendo le cavallette lo sapevi proprio qui primo anno 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 Il mio nome ti fa ridere, eh? Cappelli rossi, una vecchia toga di seconda mano. Devi essere un Weasley. Primo anno! Su! Su! Parola d'ordine. Location. Il portiere, cioè io, difende gli anelli, cioè io, mi segui fin qui? Credo di sì. Prendi questa. Attento, torna indietro. Sì, vieni qui! Non male, Potter. Bravo come battitore. Mi piace questa palla. Ah, ti piace ora. Mi piace questa palla. Ah, ti piace ora. Mi piace questa palla. Io me ne vado a letto prima che uno di voi venga un'altra brillante idea per farci uccidere. o peggio che... Voi guardate, una ricordella. È un manico di scopa. Una ricordella. Non è un semplice manico di scopa. È una duemila. Una ricordella. Oh, ma... Parcigiani! 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 Scusa, no ho capito, ah ok, tra poco quello vomita, vingardium leviosa, no fermo fermo fermo, così caverai l'occhio a qualcuno, no fermo, Agrid, ora statemi a sentire, sono bagianate, gli basta un po' di musica e si addormenta come un vino, non dovevo dirlo, Primo anno, oh yeah, primo anno, Ah, per amor del cielo, cerca di tornare in te stesso, via, devi andare nella foresta, insomma, devi avere prontezza di sfida, Grifondoro vince la Coppa delle Case, ma non basta, con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato, Serpa Verde vince la Coppa delle Case, Davide, Davide, DJ, Cosa vuoi dire? Lo sai perfettamente, Sai, 16 anni Sai, cosa change Oscar, via, non dovresti stare qui Neanche voi dovreste Io vi prendo pugni Neville, scusami Petrificus totalus Io vi prendo pugni Petrificus totalus Io vi prendo pugni Neville, scusami, scusami tanto, ti prego Avada, che tazza Fallo tu, visto che sei una sapientona Dai, forza Vingardium Leviosa Dimmi Che cosa vedi? Ma chi ha avuto questa idea sublima? Il problema imbarazzante può essere se hai una giustificata ansia da prestazione Bugiardo Quanto me ne boccano di aromino? E che ne prezzona attacco l'ergio? Questa è il? Questa è il? Questo è per te Grazie Acrid Primo anno Questa è il? Grazie.